Passiamo allora al punto 2, adesione alla Convenzione per la Costituzione dell'Ufficio Comune per l'Assistenza Legale denominato Ufficio Unico Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia. Allora, noi abbiamo fatto alcune valutazioni anche in riferimento a quello che potrà essere messo in atto da tutta una serie di comuni. Avete letto, senz'altro, alcuni di voi sono stati anche protagonisti rispetto a questa questione delle denunce o delle segnalazioni. Comunque c'è stato un ricorso contro uno dei protocolli antimafia firmati da tutti i comuni della provincia e devo dire che tutti i comuni hanno deciso di resistere rispetto a questo ricorso che ci riporterebbe indietro di anni rispetto a quello che è la lotta alla mafia e quindi la tutela della legalità. Per questo noi eravamo fra i comuni che non avevano aderito al Servizio Unico dell'Avvocatura della Provincia di Reggio Emilia. Abbiamo pensato che fosse cosa buona anche in relazione a questa necessità di costituirci immediatamente rispetto anche al tema della sospensione del provvedimento insieme agli altri comuni senza indicare invece un nostro legale differente. Questa è una convenzione, quindi specifico che noi non utilizziamo l'Avvocatura della provincia approvando questa convenzione una tantum. Noi siamo in un qualche modo tenuti a utilizzarla per le varie necessità che si dovessero presentare. È una cosa che ha un suo costo, ha un suo costo di mantenimento e poi di volta in volta sui singoli procedimenti però crediamo che sia anche un segnale positivo rispetto a un'unitarietà dei comuni su quelle che possono essere le questioni attinenti un po' al diritto amministrativo. Nulla vieta con le dovute motivazioni di scegliere di volta in volta anche avvocati e studi differenti da quelli della provincia. Quindi con questa convenzione noi facciamo due cose. Appunto aderiamo all'ufficio invocatura unico della provincia di Reggio Emilia e abbiamo la possibilità di immediatamente trasmettere questa procura per quel che riguarda il tema specifico di questi giorni che è il nostro resistere contro il ricorso che è stato presentato contro il protocollo di legalità. Io ringrazio anche per la vostra presenza perché stiamo convocando i consigli comunali in maniera serrata, a volte anche trattando pochi punti, preferiremmo non farlo però in questo momento ci sembrava giusto dare un segnale di forte unità e di coesione rispetto a questo tema della tutela della legalità. Se ci sono delle domande o degli interventi lascio la parola a chi ne chiede. Nadia, dimmi. Io volevo capire, quindi come mai il Comune di Castelnuovo non aveva aderito al protocollo provinciale e adesso ci aderisce o questa è una cosa che rimane fuori? In realtà noi abbiamo sempre avuto un rapporto fiduciario con un avvocato amministrativista e in questi anni non è stato necessario fare delle azioni un po' simili alle class action per cui era anche importante dare, secondo noi, l'idea che tutti i comuni si fanno difendere e resistono in maniera unitaria e non facendo proliferare un po' i diversi difensori. Da un certo punto di vista, forse anche a livello di costi generali, poi anche se ha un costo di mantenimento questa convenzione di adesione anche in futuro ci può dare una possibilità in più e quindi abbiamo pensato di aderirvi adesso. Quindi sarebbe comunque un utilizzo che l'amministrazione va a esercitare solo in fase giudiziaria. Riferendoci al caso specifico di questi giorni che è andato sui giornali il fatto che non si stigmatizzi quello che è questa persona o la sua azienda quindi che non si levi un coro contro solo questa cosa ma che sia in un secondo momento l'utilizzo dell'avvocato. I comuni sostanzialmente quello che faranno unitariamente è di resistere rispetto al ricorso che è stato presentato. Credo che il significato sia un significato costruttivo e non è uno stigma nei confronti di questa persona ma è il ribadire che se si fa un'alleanza forte con la prefettura su questi temi e si decide di firmare tutti in tempi non sospetti quindi parliamo di quattro anni fa un protocollo di legalità che ha delle caratteristiche anche più severe rispetto a quello che c'è anche in altre province della nostra stessa regione, secondo me un significato ce l'ha ce l'ha anche rispetto a quello che è successo negli ultimi anni con i vari processi Emilia, Grimilde e potrei citare anche altri casi magari meno e quindi diciamo che questo provvedimento dal mio punto di vista è un ribadire da un lato una profonda fiducia alleanza nei confronti del lavoro della prefettura e di unitarietà per quel che riguarda la severità dei protocolli di tutela della legalità ma non c'è un accanimento, uno stigmatizzare questo o quella anche perché ripeto, io dal mio punto di vista sono di natura un garantista per cui finché questa persona non è stata dichiarata colpevole di qualcosa dal mio punto di vista è innocente quindi credo che tutti abbiano anche il diritto di difendersi poi è chiaro che c'è una strategia processuale c'è una strategia diciamo degli avvocati che consiglia di fare questo o quell'altro è stato fatto un ricorso, secondo me i comuni sono chiamati a resistere rispetto a chi mette in dubbio la validità di questo protocollo poi per carità non so come si evolveranno le cose ci sarà un percorso di tipo giudiziale e poi vedremo però credo che per una questione anche secondo me di rappresentanza istituzionale diventa un po' strano non fare questa cosa io avrei qualche domanda e anche qualche osservazione da fare su questa richiesta dei protocolli di legalità ne sapevo molto poco sino a quando non è scoppiato questo caso vedo che il comune di Castellone Monti l'ha firmato con la prefettura di Reggio Emilia perché ogni singolo comune l'ha firmato con la prefettura il testo poi è unico nel 2014, ottobre 2014 sono circa sette anni e mezzo che questo protocollo è in vigore è un protocollo che si propone se ho capito bene come obiettivo quello di vigilare sulle possibili infiltrazioni o condizionamenti del crimine organizzato, quindi mafia, cramorra e dranghita nel settore degli appalti pubblici essendo un settore che si è visto storicamente molto delicato e molto così è una preda normalmente di queste organizzazioni e soprattutto in particolare non solo fornitura bene e servizi ma in particolare parliamo di edilizia perché poi si è cominciato edilizia che è monopolio di alcuni gruppi italiani e stranieri stranieri negli ultimi anni ecco poi il caso in particolare di Casina abbiamo che 42 comuni hanno firmato questo accordo con la prefettura è un accordo stringente perché non riguarda solo da quello che ho capito io ma se sbaglio mi correggerà non riguarda solo la possibilità di operare nel pubblico ma anche limita fortemente nel privato ed sono protocolli abbastanza stringenti probabilmente la nostra forse è l'unica provincia per il momento altre province mi sembra che stiano guardando con interesse a questo tipo di accordi ecco io quello che ho detto anche per la consulta di cui si parlava in questi giorni consulta organizzata invece dal comune di Reggio Emilia era un po' la difficoltà e la perplessità perché noi non siamo stati invitati cioè sarebbe bene coinvolgere anche le opposizioni per esempio la consulta è formata solo dai sindaci in quell'occasione mi hanno fatto una domanda sulla consulta io ho detto ma sarebbe bene che fossimo invitati pure noi a partecipare perché abbiamo anche noi il nostro punto di vista eccetera mentre per quello che riguarda questi protocolli ripeto sono molto stringenti qui abbiamo un caso particolarissimo anche molto forte sappiamo tutti di chi si tratta è l'ex assessore ai lavori pubblici di un comune vicino il comune di Casina al quale il prefetto ha negato l'iscrizione nella white list questo assessore titolare di un'azienda edile ha fatto la domanda mi pare a gennaio o addirittura a dicembre del 2020 e la risposta gli è arrivata poi a febbraio una risposta negativa questa risposta negativa non riguarda solo gli appalti pubblici ma nella nostra provincia limiterebbe la sua attività anche nel settore privato e credo che la contestazione siamo un po' fuori no che la contestazione rispetto a questa cosa sì no ma siccome stasera siamo riuniti per decidere su questo punto sul punto di avere un avvocato in comune con gli altri quello della provincia io ti esorto a misurare le parole perché sono tutte registrate secondo me siamo un po' fuori tema rispetto a questa questione la cosa è diventata imbarazzante perché sembra quasi che 42 comuni stiano facendo sembra almeno l'impressione era quella allora detto questo e la chiudiamo qui perché non voglio prolungare la cosa noi siamo favorevoli ad avere questo avvocato assieme in questo particolare frangente anche se ci siamo appoggiati negli anni a Paolo Coli che è un ottimo professionista come gruppo penso di poter dire che esprimiamo parere favorevole e ripeto la situazione è diventata delicata e mi dispiace che questo caso sia stato il pretesto per avere l'avvocato il servizio legale in comune mi dispiace molto anche per la persona che io non conosco ed è una situazione imbarazzante perché vediamo i protocolli antimafia per la prima volta messi alla prova veramente e vengono contestati io spero che il TAR dia ragione a noi e non al singolo e non al privato io penso che la ragione sia dei comuni in questo caso va benissimo resistiamo e vediamo come andrà a finire insomma quindi voto favorevole grazie ci sono altri interventi ma io volevo soltanto dire che anch'io volevo chiedere una cosa riguardo a questa cosa del protocollo tra i privati c'è il lavoro tra i privati con i privati se uno viene escluso dalla white list però se non è pertinente non la faccio la domanda io cerco di dare no era questa era questa se io ho un'azienda e lavoro solo con i privati certamente presento i miei certificati antimafia e sono a posto nel momento in cui io ho l'azienda che voglio lavorare sia col pubblico che col privato ho delle problematiche che non mi viene riconosciuta l'iscrizione nella white list quindi automaticamente mi ritrovo a non poter lavorare neanche con i privati e questo non limita quella che è le pari opportunità con tutte le altre aziende che lavorano soltanto con i privati e che non devono chiedere l'accesso alla white list per poterlo fare cioè allora diciamo che noi ci atteniamo a quelli che sono i fatti e quello che ci ci hanno restituito diciamo le comunicazioni sui mezzi di stampa è che questa mancata iscrizione alla white list ha anche delle conseguenze sull'edilizia privata anche in virtù come diceva Alessandro di un certo tipo di protocollo che sia stato firmato cominciato nel 2014 rinnovato nel 2018 perché ci sono anche quando cambiano i prefetti delle modifiche rispetto a queste cose qui credo che noi ci muoviamo a un livello ancora precedente poi nel merito credo che giustamente ci saranno gli avvocati che fanno il loro mestiere chi da una parte e chi dall'altra e credo che questa cosa aiuterà meglio anche noi a orientarci rispetto a queste questioni secondo me la cosa fondamentale è dire che rispetto a questa cosa non c'è da un punto di vista nostro voglio chiarire nessuna mancanza di fiducia rispetto al nostro legale storico che credo che abbia dato dimostrazione sempre di altissima professionalità in questo caso ci sembrava ci sembrava opportuno fare una cosa insieme agli altri insieme agli altri comuni perché questo ha un significato che va appena oltre l'aspetto della fiducia professionale credo che sia proprio anche un dire su questa questione 42 comuni firmano con la prefettura 42 comuni si fanno difendere dall'avvocatura unica della provincia ecco ma ripeto tutte le considerazioni nel merito e nel merito del caso nel merito dell'utilizzo meno di diversi studi legali secondo me esulano un po' dalle competenze di questo Consiglio Comunale poi giustamente è una materia talmente complessa come hai detto bene Nadia ed è giusto che se ne possa parlare anche in questi consessi poi credo che sia magari opportuno fare non so degli approfondimenti nel caso poi ci potrà essere qualche conferenza di capigruppo per poter capire meglio come ci si muove rispetto a queste questioni perché oggettivamente sono sono molto difficili da 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 maneggiare in tutte le loro sfumature ecco sì a favore della della conoscenza del Consiglio volevo solo leggere che ho visto anch'io da poco il titolo dell'ultimo perché ne abbiamo firmati due di protocolli per la legalità l'ultimo sponsorizzato dalla Regione addirittura quindi immagino che interverrà pure la Regione e il titolo è molto esplicativo è molto chiaro ai protocolli di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica sottoscritti dai comuni della provincia di Reggio Emilia con la prefettura di Reggio Emilia in data vengono richiamate le altre date quindi 19 novembre 2015 22 giugno 2016 e qui siamo al 20 dicembre 2021 ecco il punto importante che parla di edilizia privata anche quindi e su questo è un aspetto diventa molto io mi metto nei panni di questo imprenditore si vede bloccata l'attività nel settore pubblico e poi gli dicono adesso anche nel settore privato non puoi operare vuol dire tu devi chiudere l'azienda sono provvedimenti amministrativi non sono condanne non sono condanne penali è un provvedimento di prevenzione così chiamato probabilmente ci sono i suoi avvocati gli avranno indicato che ci sono dei presupposti per poterlo contestare perché insomma è molto chiaro comunque io lo vedo ora me ne avevano parlato si può andare sul sito della prefettura e ogni singolo consigliere se lo può guardare di giurisprudenza degli avvocati noi non non entriamo quindi se siete d'accordo io metterei in approvazione il punto 2 l'adesione alla convenzione per la costituzione all'ufficio comune per l'assistenza legale denominato ufficio unico dell'avvocatura della provincia di Reggio Emilia chi è favorevole? votiamo anche l'immediata esecutività chi è favorevole? è l'unanimità noi adesso ci fermeremo per la giunta perché abbiamo bisogno di assumere questa delibera di giunta e per poter dare la procura già domattina grazie ancora per la vostra presenza grazie a tutti grazie a tutti per la vostra presenza per la vostra presenza grazie a tutti per la vostra presenza